Hola compagneros, qui Jim Lemo, bentornati sul mio canale da tanto tempo che non ci sentiamo e non ci vediamo soprattutto e adesso sono tornato un po' più operativo forse, si spera, vedremo e ho deciso di portarvi un gameplay di League of Legends vi dico subito che sarà un game con degli amici per cazzeggiare, per divertirsi quindi non sono un pro e se ci sono problemi nella build eccetera e ragazzi, funziona così, quando ci si va per divertire e non per le proplayate sostanzialmente comunque, vando le ciance, io sono Alcarim in giungla e adesso passiamo la parola agli altri signori io sono SL2000, sono il top laner, Poppy e io sono Mesh, Corky, AD Carry bravo, bravo vieni ad aiutarmi, fammi un... dagli tanti colpi che non smito ti lancio uno scudo, vabbè? no, no, dagli tanti, io tanko ma tu dai tanti colpi dagli tanto un hard pull che vengo a fare una gank subito e poi abbiamo anche il... MrExit, te lo presento, eccolo qua lui non è in chat con noi, comunque lui è Nautilus in mid abbiamo una persona a caso trovata raccattata sotto un ponte da qualche parte perché il nostro quinto attualmente si è dato per disperso da qualche parte comunque, come vi sto dicendo questo sarà un game, porterò qualche game di League of Legends in coppia o con più persone perché io gioco praticamente sempre solo con loro per divertirmi se ci saranno cazzate benvengano anzi, molto meglio adesso vediamo che è nato Poppy Balla guarda i miei godini che sono proprio incollati come... intanto ricordiamo... no, non ricordiamo diciamo a tutti i telespettatori che ci stanno seguendo da casa dal proprio smartphone, dal proprio pc o smart tv eccetera ormai ovunque che SL2000 ha un canale YouTube che metterò in descrizione incredibile dai ancora un paio di colpi poi te ne puoi andare grazie, vai vai ti vai ma sono stati dai regala famo bene bene e adesso andiamo a prendere sti croc di merda e quindi andiamo a gancare se il nostro SL2000 non l'ha pushato troppo indietro io direi che possiamo venire subito vado mi piace lo starter di exit ma va bene e c'è il primo sangue ottimo sangue ha workato well ha workato well timo support credo sopravvivete tutte e due incredibilmente tanto sta succando bellamente ari no zed ah bello proprio sto succando molto infatti adesso prendo il blu aia aia ok stavo dicendo prendo il blu e vado a mid ma forse dopo mi conviene venire direttamente cosa sta facendo quello non lo so se vieni ti fa gli easy pin putt ti ha ammazzato piu la epoca si parla già un quarto d'ora fa però va bene non lo uccido eh non lo uccido no perché ci sono i minion qui c'è Rengar miau che Rengar è a livello anche 5 vado dai da anni che fa dai non è possibile arrivo ragazzi metto tutto eh ma io non ho niente nice e me ne vado aspetta ma Rengar ti ha fregato la kill eh no ma è meglio così ci morivo ah beh dov'era il gatto con gli scrivali? Rengar era nella sua giungla verso la sua giungla comunque era ancora a livello 5 non aveva la R Rengar ah ecco adesso c'è un problema eh no ok ma ahia che brutta brutta fine che ha fatto ahia che brutta fine che ha fatto ma adesso verrà andromed la stessa dopo ci faccio vedere qua almeno ahia eh mi dovrà che non può uscire più di tanto eh ho visto no Simo vai Simo eh vabbè vengo qui da te oh 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 eh vabbè eh vabbè ero lì vicino a te ma ehm il gatto non ha flash no no non c'è la kill eh no ma è eh Timo eh Timo ha fatto tutto lui ha trovato una pink infatti io approfitto per metterne una qui facciamo Renghi oh no sono morto io ma almeno Zed scappa scappa Zed GG good job no incredibile dodgela dodgela Zed dodgela dodgela ok GG adesso vediamo se c'è qualcuno in giro da queste parti mia oh c'hai una gattona su mamma mia la peste proprio mi sta perdendo ah bevi si infatti oh adesso mi toccherà andare a difendere la mid si ci sto andando eh attenti che lo sanno eh lo sanno vai via Mike via via prendetemi non ti muoverà Mike eh no sto proprio dietro di voi vado su e giù vabbè ha preso me vabbè ci sta no ok buono ok vado per il red te sì ma hai bisogno top no il problema è solo quando ganca c'è un gran bisogno in mid eh il Drake sono andando al Drake eh lo so ma sono andato d'altra parte vabbè vengo vengo ma quanti funghi hanno piazzato vengo 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 l'herald dopo buona manca la mid lane anche la top lane però credo sia andato in base timo è full ap no cioè full si si full non ha né completato l'oggetto di support né le ward usa i funghi come ward eeeh rengar è qui ce l'ho visto è un gattone secondo me sta venendo qui dove va dove va prendilo bravo eccolo becca un mamma mia la testa lanciando no e' carrega dove sono abbiamo ucciso lo stesso buono ma rengar è in mid quindi non c'è un gran problema che cazzo fa perchè ha flashato via cosa chi cosa vuoi eh rengar cosa vuoi cosa vuoi fare si però attenti che rengar viene verso il bot sto arrivando è top scusa sto arrivando ah è qui è qui ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho ha ultato addio questo sarà un commentary un pochino smorto fare il jungler mi impiega tutte le mie conoscenze linguistiche che non c'entra niente ma è giusto per dire un po' di qualcosa e linguistiche linguistiche esatto è giusto per dire un po' di brodaglia in mezzo anche perchè non lo faccio mai il jungler e quindi ah ti sono spawnati i pacchi ho detto porca miseria che cazzo ah gli prendo allora dai così vado prima in me la mid la fa non posso andare non riesco ad andare neanche a salvarla attenti alla mid che non c'è più uuu e lo sapevo mannaggia adesso che ci penso di la non c'è neanche un tank un tank arrivo michael sono rallentato perchè c'è uno una funga no la fanga no 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 cosa sta facendo SS top G notato e G me l'ha bloccato tanga e sci yeah lasciamoli lui dice io faccio la r sotto torre e invece arriva il karim non che ci voglia tanto ok mi sto vicino anche no non so quanto danno no mi ha beccato perché per chi cosa si è spostato me ne vado addio ma perchè si è spostato mi ha fatto prendere in pieno da lavorabilità vabbè morto vabbè morto e carico c'è da attenzione arriva top oh oh logo lo 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 p ne aveva di non so se riesco a salvarlo salva la tonne salva quel tonno salva il tonno se venite qua vicino mi sa che vanno al drake infatti vanno tutti al drake teoricamente ma nessuno venga al drake eh venga però io non posso andare per primo praticamente io ho il tp il tp con 5i no 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 mamma mia di cattiveria ma cosa fa non ho capito il discorso nessuno mi difende nessuno mi difende tutti per le kill e di che ci sono tranquillo sono tu beccato facciamo il tape adesso si vabbè ooooh portalo fuori portalo fuori si vabbè ci hai provato ah era burdato qua ecco perché ci vedeva nooo cos'era quella r la cu cos'è che la cu si avete ragione mamma mia zed mi sono smagnati cioè insomma avete capito faccio il sacotto eh però tutti qua aiuto però qua eh se qualcuno vuole il mio red lo vado a prendere no grazie il prossimo volentieri fino che non ho altro un altro due o tre oggetti non faccio danno aspetta prendo castaway fuori posizione mid no non ci credo eh non ho niente niente eh non ci vado neanche ehi madonna tutti via eh sì era anche bordato nini a bubu caccia esatto mamma mia liscio eh non ho ulti cosa tanto mi so fatto la spada lunga dopo vedrò cosa fare e ho il pacco me ne dimentico beh che palle però buf l'ho presa bubu caccia è un'avventura assai che ti sorprende da venire aspetta andarci allora ci sono tutti eh ma benissimo però eh eh attention please eh io mi prendi funghi intanto dai eh eh visto che c'è c'è un ganglion anche lì gambe silvato e vabbè io mi prendi funghi dai mi andrei porto però ancora timo smettila di mettere i funghi dai ho fatto il 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 red tu che red è il trinker e vabbè ciao mi è ci vado a fare lì nautilus nautilus tutti lì stanno si se viene anche nautilus guarda se metto una ward te ce l'ha il tp? eh però è giusto quanto mi faccio la dora pure e ci sono un ward aiuto oh ma perché mi abbandonate sempre però difendetemi ma smettila però la mid lane in compenso cade è bubucciaccia madonna devo insegnarvi anche bubucciaccia hai ragione lì è stata completely my fault arriva gangplank ti fa il saccottino è da qui problemi della diretta è che Michael cresce dai che prendo questa anche se probabilmente serviva più di quell'altra però vabbè dai lo doggio ormai ho fatto gli oggetti per quello Michael Michael tornerà prima o poi tanto la sua wind eccola che è tornato eeeh eh non ce la facciamo eh lo so ma no no oh oh no Michael mi hai fatto morire ma hai fatto morire Michael e mannaggia eh mannaggia ah 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 i tanti danni che noia fa male ho fatto tanta di quella bua che mi hanno sentito tutti su di me vengono sempre che non è sai da po' qui poi i cordini a tirano oh dio ma poi è il pezzo l'alberto con me mi ha chiuso toco è la cosa che mi ha utilizzato no? già possiamo pushare anche la prossima Lui vabbè lui c'è morto Due torri per una Due torri per una Due torri per una Due torri per una Lui c'è un funghetto di timo E' però un Stavolta non te ne vai Ma difensi No vabbè No ci sono ci sono Sto arrivando Eh no male tanto così E' arrivato qualcuno mi sa Eh fatevi coso Eh l'inibitor eh non ci arrivo ormai eh si fa coso Eh ma dai a me ho detto venti secondi Vai già è raggi Vai già è raggi Oddio Zed è già morto Arrivò Mamma mia il danno No 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 ma dai L'ho scritto su whatsapp Eh va ca puttana incredibile Mi ha cosato Mi ha cosato Mi ha sciarmato Eh ma ragazzi avete fatto i Avete fatto Eravate in partito io non ero ancora nato Se sono appena tornato ero No 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 giusto No non dico te perché tu sei zanglet Però io non ho difesa Il mio supporto non mi dipende Ehm Vediamo un po' Cosa posso farlo? Quasi quasi vi faccio la 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 L'angelo custodio La cosa è Po' thank you E sopravvivo per il po' a nessuno Eh comunque li sono morto eh Eh io eh vabbè via via Nooo Eh non lo so Io non ci voglio Eh no Non c'è andata no Eh la vedo male La vedo molto molto male adesso If them ingaggiano così shall Posso prendermi in blu o ti sei così La famo? Io no Ah prendelo prendelo Buona Se c'è ancora Ari qui da queste parti Io me la farei anche Ho scappato Già C'è un red comunque C'è un red comunque C'è un red comunque Era lì Era Fai tu Ops Fai tu ops Lui No Ah che miseria Io vado top ragazzi Va bene Ho troppo farm che puzza E anche Dopo ragazzi richiamatemi quando Inizia a trappare Ehm andiamo Ehm andiamo Ehm guarda un film No Voglio capire dove Cosa sta succedendo? Non ci credo Ho fatto 8 giri Eh vabbè Eh no Ciao Ehm Ehm Vai via Ehm 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 no 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 zed ma non te lo fai zed ma perchè ci vuole solo un teamfight buono se riusciamo a stannarla ecco ma perchè face check a lui non lo so no 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 eh se lo fanno se lo fanno di sicuro baron? eh tu no fagli marroneic merda quanto danno che fa vado qui attenti renghino spinge un po' un mid per mamma vaffanculo via 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 bello uro esil attragmoglicata .... would Fatti quella! Siiii! L'ho pulisciato! Out attack! E' tuo! Ah! Questo, questo! Mettete, mettete le varie ward! Yep! B, B, B! Out attack! 2 build! Ma perchè non mi ha preso qualcuno? Vabbè, però, credo, per favore! Uccidilo! Ah! Yes! Arrivo di carica e basta io, cioè! Uuuuh! Buona, buona, buona! Uuuuh! Ottimo! Thunderlord! Dai che ci siamo ragazzi, dai che ci siamo! Uuuuh! 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 Arrivo con Hecarim gigante! Siamo tutti giganti! Sì, ma io sono grandicello nel senso anche di stazza! Guardate con la mia possenza sto arrivando! Bisognerebbe pushare un'altra lane per avere un pochino più di vantaggio, lo sapete vero? No! Tipo la bot! No! 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 Ehm, mi sa che ci siete un po' morti tutti! Ehm, pur dopo sto arrivando, ma... hello ma perchè non mi difende? ma perchè? ce l'hai visto? tripla vai mia chi se ne frega Zed mi dispiace Zed mi hai dato saresti morto lo stesso yes è durata già abbastanza poi la gente poi si annoia olè ho 46 minuti eh si anche troppo ho messo il ghost così per dire va bene yeah è stato potenzioso la cosa mi sa che dovrò tagliare un po' le parti morti le parti... si le parti morte del video dobbiamo caricare un video da 46 minuti ai centi a più quanti morti com'è a più? con 23 e 17 a più ma non dà il voto ragazzi si è bugato mi dà solo i punti influenza è perchè sei uscita beh danni non siamo messi male ottimo va bene va bene intanto ragazzi vi saluto alla prossima salutate anche voi ragazzoni ciao ragazzi ciao eeeh 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 perché grazie ciao